Ciao, io sono Silvia e lui è Ray, è un cucciolotto bellissimo, se riesco ve lo faccio anche vedere, ha 5 mesi, era un randaggino e adesso si trova a Casale Monferrato e cerca casa, sarà una futura taglia media o medio contenuta, adesso ve lo faccio vedere se ci riesco, eccolo qua e tutta la sua bellezza, per info 340 90 87 029